Se oltre alla passione della lettura avete coltivato anche la passione della scrittura avrete sicuramente provato a guardarvi in giro corsi di scrittura manuali quello che spesso accade è che i romanzi sono dei brevi esempi non sono la materia da cui si parte quello che cercheremo di fare invece in questo corso esattamente questo partire dalle opere per capire quali sono i meccanismi i segreti tutte quelle tecniche che ci permetteranno di diventare eventualmente dei scrittori il talento non si inventa ma la tecnica si e si può imparare partiremo dai classici quindi dai promessi sposi da kafka dalla grande letteratura francese inglese americana fino ad arrivare ai nostri contemporanei quindi la letteratura resistenziale balestrini le avanguardie ammaniti king sarà un lungo viaggio nella letteratura ma sarà soprattutto un lungo viaggio negli impianti di queste opere e ci eserciteremo ovviamente e quindi faremo una serie di esercizi che ci permetteranno di provare queste tecniche per arrivare a costruire l'impianto di un romanzo di un racconto oppure un incipit io sono michele vaccari e questo il nuovo corso della scuola olden il romanzo per imparare le tecniche di scrittura